Ok, tu sei pronto? Sì, sto prendendo giusto una nuova arma perché la mia sta un po' cadendo a pezzi, però entrile ci sono, sì. Ho trasferito lo shulker box di camera mia nell'ender chest perché tanto non ci mettevo nulla, ci sono solo i file del progetto Venom, eccetera, quindi a un certo punto ho detto, sai che c'è? La metto nell'ender chest più sicuro di quello. Ah, stanno un po' di mob qua fuori, però sono nel recinto, eh ma sono nel recinto, dimmi, cioè, e perché sei questo? Oh, 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 perché mi stai attaccando? Io ti sto attaccando. Ma sei qua fuori, cioè, sei messo uno schifo, ma perché mi stai attaccando? Oh, dai, no, su, oh. Guarda che quello non sono io, io sono dentro casa, quello non sono io. Ma se c'è il tuo nome? Aspetta, ma qui c'è un coso col martello di Thor, è Thor, o qualcosa del genere? Non lo so, ah, sei qui, beh, guarda, a parte questa agenda. Sì, mi sono visto, senti, facciamo una cosa, ci penso io al mio, al fantomatico me, tu pensa agli altri. Sì, d'accordo, ci penso io. Ma, chi è questo? C'ha la mia vecchia skin, la mia vecchia skin, la vecchia skin che avevo. E non va giù soprattutto, ha la mia vecchia skin. Non mi attacca, non so perché, forse è perché ce l'ha con te. Sì, pare ce l'abbia con me, in effetti. Ma questi fanno male? Oh mio Dio, sto veramente prendendo da uno. Sì, è vero, anche Thor fa male. Però, non riesco, cioè, non fa, non usa i fulmini, non... Forse quello non è il vero Mjolnir, perché non, in effetti, non può essere... Ma lì c'è un Gallantmon lì. Come c'è un Gallantmon? Dove? Ok, pensiamo a questi, poi pensiamo a lui. Sì, ma io sto prendendo un sacco di... Ma c'è anche un Venom là giù. No, 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 che sta succedendo? No, si chiama Venomizz... Scienziato Venomizzato, si chiama. Eh, vabbè, sempre un Venom. Ma c'è la miseria... No, 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 io ho perso una... No, 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 è stupido. Ho perso una parra e mezza di cuori. Ma questi mi stanno demolendo. C'ho i poteri di Thor, che era meglio Venom veramente. Eh, ma tanto non ti rispondeva. Sì, è vero, ma almeno non ci perdevo vita. Ah, Joker è andato, manchi tu. Non riesco a capire, allora è andato anche Venom, ma Thor è durissimo. Thor non riesco proprio a... Ma sei duro anche tu in realtà, eh. Ah, accidenti, mi ha tolto abbastanza, mi devo mangiare subito una mela d'oro, altrimenti qui mi fa male. Ok, ok, ci sono. Gli ho fatto... Quattro, lo che fai male è se tu non riesco a incinerare. Sì, ma non riesco a ucciderti questa specie di coso. Quel tuono, ahia, ma non c'è la miseria. Cioè, da tre, quasi tre cose e mezzo di cuori, me ne è rimasta una e mezza. Ora dimmi tu. Ma io gli ho sparato le frecce e non gli ho fatto nulla. Frecce? Ahia, non so. Ok, l'ho sconfitto, l'ho sconfitto, mi ha dato gli stivali di Thor. Vengo a darti una mano. Faresti meglio perché sto coso tra un po' mi ammazza. Ma quanto è tosto? Perché sta tornando... Dove vai? Ok, dobbiamo affattarlo tutti e due dalla stessa parte. Ok? Sto per morire! Le frecce rimbalzano! Le frecce rimbalzano! Ma mi ha ucciso! Come ti ha ucciso? No, forse ti sei fatto fuori da solo con l'arma che hai usato. Forse le frecce... Ma se non andrà? Allora, le frecce gli rimbalzavano contro, quindi molto probabilmente il motivo è questo. Senti, occupiamoci di quel Gallantmon che sta lì. Io non so che roba è. Si chiama Dukemon. Beh, è la versione giapponese, inglese o come diamine, non so. No, giapponese, perché ho visto che nella versione inglese della Digimobs si chiama Gallantmon sempre, quindi... No, però... Anche lui c'ha questa stessa cosa che resiste alle frecce. Aia! Non lanciarle su di me le frecce, però. Sono stani questi nemici, perché i proiettili li rimbalzano contro e se io gli tiro il martello... Ah! Mi ha quasi fatto fuori! Come ti ha quasi fatto fuori, mio Dio? Sì, sono rimasto con due cuori. Ok, allora, dobbiamo cercare di affrontarlo dalla distanza. Dalla distanza dobbiamo metterci in un punto e dobbiamo attaccarlo. Ma devi avere una resistenza dal fuoco, perché non... Non mi riesce di... Avanti, maledetto. Cioè, maledetto no, se mi dice un preferito per carità, però... No, ma fa malissimo veramente sto coso. No, 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 no. Lo credo, sta utilizzando le armi che ho inventato io, ci mancherebbe. Ma come ha fatto? Com'è possibile? Ah, se lo fa questo... Ma allora... Allora, nell'ultimo episodio ho detto, Oh, dai, siamo pronti, questi non ci fanno più niente, per noi mob sono scarsi, e questo ci sta per uccidere entrambi. Ma veramente mi stai dicendo... Ci ho resi... No, 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 no. Eh no, io non ci rimuovo un'altra volta. Allora, visto che se la prende con te, tu continua ad allontanarti, io lo meno. Tu continua ad allontanarti piano piano e io lo meno. Non tirare le robe che hai colpito me. Eh, lo so, ma... Ok, adesso ce l'ha lui con me, ce l'ha lui con me. E allontanati. Ma poi salta, salta come un dannato. In realtà credo che quello sia più un volo che un salto. Beh, fatto sta che lo fa, e non mi va come cosa. Che cosa è... No, 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 no. E a proposito, l'esplosione mi ha fatto ricordare una cosa. Hai notato che i danni che c'erano la volta scorsa alla nostra base sono scomparsi? Sì, non ci avevo fatto molto caso, però effettivamente è vero. Dietro di te è un ragno. Giusto per non raggiungere ulteriori danni. No, io ci muoio, ci muoio, ci muoio, ci muoio, ci muoio, ci muoio! T'ho detto, utilizza lo scudo, utilizza lo scudo, a lui ci penso io. Ho lo scudo rispetto a te. Cioè, mi si sta per rompere l'elmo dell'armatura? No, no, devo andarmi... Devo andarci di questo. Qua le cose non stanno andando bene. Dobbiamo trovare un modo per eliminarlo, perché... A giudicare dal fatto che gli brillano gli occhi è l'armatura di Gallantmon aggiunta dal mio addon. Questo significa che gli dà anche la rigenerazione della salute e questo non è un bene. Guarda, io mi sono messo un attimo l'elmo più potente... cioè, è uno degli elmi più potenti che ho. Ora, in teoria, ti è anche fermo in acqua. Forse dovrei poter uccidere... No, non ci riesco. Allora, l'importante è che non ti fa molto danno, perché così io posso colpirlo con le frecce a distanza. Comunque prima mi sembra di avere una barra del boss. Una barra del boss? Sì, dalle parti della Battle Tower. Cioè, nel senso, verso la mia destra. Quella che è la mia destra, al momento. Ti prego, resisti un attimo. Ho bisogno di un secondo. L'ho sconfitto! L'ho sconfitto! Ce l'abbiamo fatta! Mio Dio, ci abbiamo messo nera glaciale. Chaos Gallantmon! Sto leggendo bene, sono io che sono ammattito. Ti prego, Dimino. Senti, allora, già stiamo crepando così. Anche Chaos Gallant, no. Non ce la posso fare. O ritiriamoci un attimo in casa, veramente. Sì, va bene. Col cavolo che apriamo il portale. Io metto l'elmo di Spettrite a riparare. Allora, fortunatamente io la mia armatura l'avevo potenziata come si deve, quindi... Io no, ho detto sinceramente non l'avevo potenziata chissà che, però dai. Allora, la barra del boss compare qui. Dobbiamo capire dove si trova. Allora, qui c'è uno zombie. La barra del boss sta qui. Vedo che dalla nuova, che ci sono delle entità nella Battle Tower. Che abbiamo comunque in realtà spugnato, quindi non dovrebbe esserci nulla. Allora, qui c'era una scheletro, vabbè, niente di particolare. Qui c'è... Cosa è sta a fare... Uh, c'è Venom, 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 Venom. Dietro, 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 vieni. Ok, è andato. Era uno zombie venomizzato probabilmente, perché non è da Venom comportarsi così. Cioè, resistere così poco. No, ma a parte che anche l'ebbero ascenso, quindi era sicuramente un bisogno. Ok, allora, in teoria noi potremmo arrivare, però io ho visto che ci sono più entità... Ok, sì, sono veramente... Ah, ok, sono altri due zombie venomizzati, mi sa. Senti, con queste frecce vedi di far piano. Eh no, infatti è per quello che sono morto prima. Mi sono accorto di quello. Io la barra del boss qui la continuo a vedere. Un'entità soprattutto dovrebbe esserci. Quindi, non ci fa male provare. O meglio, non lo so. Ma sporca di quella puzzetta! Fermati, fermati, non ci può andare su. No, non ci posso credere. Non ci posso credere. Non ci posso credere. È un Digimon. Sì, ma... Non ha animazioni o sbaglio? Io questo qui lo visto a DigiWord, ma le animazioni ce ne aveva. Ok, questa non mi piace. Questa non mi piace per niente. Ma non ti c'è nemmeno a me? Anche perché mi fa male, caldo? Fa male veramente. Anche a me? Piano, 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 piano. Riusciremo a ucciderlo, non lo so. Penso di sinistra, andando giù abbastanza facilmente. Ok, l'abbiamo sconfitto. Diamanti. Allora, ha droppato un'asta di ferro, otto diamanti, sei dati corrotti e uno smeraldo. Cioè, sul serio? E a questo punto io non riesco a capire. Che dici quindi ci dobbiamo andare nella dimensione del burattinoio? Allora, dopo questa sinceramente io non so. Cioè, mi sento quasi impotente io. Potremmo fare la prova, ma non so. Una cosa stavo pensando, siccome nei commenti ci hanno consigliato di aggiungere una mod che aggiunge le armi, io in effetti l'avevo già fatto. Teoricamente, agli archi, noi potremmo sostituire delle pistole o dei fucili, che in teoria magari non saranno più potenti, non lo so, perché non li ho provati ancora. Però, almeno non c'è il pericolo che i colpi rimbalzano e colpiscono noi. L'unico problema è che le munizioni riempiono l'inventario, quindi avremo molte meno cose da poter portare con noi. Beh, basterà farsi uno zero in più. Allora, io vado a mettere questa roba nel magazzino e poi vediamo, perché, cioè, sta cosa proprio non mi convince, sinceramente. Soprattutto quel coso che era identico a me. A proposito, un'altra cosa che ci è stata suggerita nei commenti è di costruire una base vicino al portale del Nether, all'interno però. Io ho pensato invece di piazzarci golem. Il problema è che i nostri golem sono scomparsi. Adesso io non so se sono scomparsi, cioè, di despaunare non potevano despaunare perché il nome gliel'abbiamo dato. Quindi, scappare non sono scappati perché non li abbiamo trovati da nessuna parte. Ora, la questione è, sono stati fatti fuori da qualcosa, ma non sappiamo cosa. Guarda quando è bello. Non è affatto simpatico. A me ricorda uno di quei cosi che abbiamo affrontato un po' di tempo fa. Oh, pantaloni di Remblaze. Forca miseria quanto sono forti. Guarda i punti armatura. 16 punti armatura. Eh? Eh. Vanno messi nell'ender chest. Ora, ora. Vai. Senti, allora, facciamo una cosa. Dormiamo, poi io apro il portale e vediamo di prepararci per entrare. Ah, controllare il martello di torre è sempre un'impresa, certe cosa. Eh, lo so, lo so, lo so. Hai avuto il mio stesso problema. Ok, allora. Per qualsiasi evenienza, io non so. Non si sa mai che potrebbe spawnare qualcosa. Cioè, non dovrebbe succedere, però non si sa mai. Allora, io la chiave ce l'ho. Sono preparato. Speriamo bene. Allora, 3, 2, 1. Questo non doveva succedere.